Ed ora passiamo proprio all'abusivismo quello vero. Guardate, di fronte a noi c'è una pensilina che ospita i turisti che prenderanno quei bus a due piani aperti che li porteranno in giro per la città. Abbiamo quello di Roma Cristiana, abbiamo quello di Green Line, abbiamo quello di Open 110, mi sembra. Ok, ecco, è arrivato e guardate che assalto alla Baionetta arriva qui di abusivi. Vieni, vieni Valerio che c'è proprio l'assalto qui dietro. Guarda quanti sono, sono in postazione. Guarda, aspetta, fermo, non ti muovere, aspetta. Eccoci, andiamo. Allora, qui sono tutti parcheggiati, forse questo bus non interessa. Stiamo partendo. Allora, Fular, Cappellini, Acqua Minerale. Abbiamo di tutto, Ombrellini. Guardate che cosa c'è qui. È una cosa indecente. Io credo che i turisti ci prendano in giro. Infatti qui sopra ci sono dei giapponesi. Valerio, fai vedere, ci stanno fotografando. E credo che stiano fotografando anche questi signori. Guardate, Acqua Minerale. Tranquillamente. Guardate, guardate, guardate. Guardate che roba. E' qualcosa di vergognoso, di scandaloso. Siamo alla stazione Termini e i nostri turisti, uno dei patrimoni più importanti della nostra economia, deve venire assaltato da tutte queste persone che abusivamente si muovono qui a vendere i loro prodotti. Guardate, guardate quell'altro. Lì a sinistra, Valerio, guarda, in mezzo alla strada, proprio con le bottiglie in mano. Guarda, è una vergogna, guarda. È una vergogna. Mi dice l'amico Renato. Eh, Renato. Vieni qua. Renato, ma è vero? Valerio, vieni su di me. Renato, ma è vero che quando il sindaco Alemanno ha inaugurato questa bellissima piazza, qui non c'era nessuno, non c'era un ambulante, non c'era un abusivo. Addirittura, tutte quelle bancarelle che sono lì sulla piazza della stazione, non c'era nessuno. No, certamente era tutto sparito, era vuoto, completamente vuoto. Era una cosa bellissima da vedere da parecchiani che non si vedeva la stazione così. E infatti, quando il sindaco Alemanno andava in giro per la città, chiaramente gli spulivano la strada quelli che operano nel mondo del lama, che qui addirittura sono riusciti a far sparire tutto, è una cosa incredibile. Però il giorno dopo mi pare che era tutto come prima. Certo, infatti al giorno seguente già erano tutte, anzi, hanno scelto i migliori posti, hanno ricambiato e hanno già messo anche di più bancarelli adesso. Buongiorno, quanto costa? Un euro. Un euro. Due euro. Due euro, questo lo fa poco perché di solito sta a tre, tre euro e mezzo, quattro euro. Tiè, qui stanno vedendo il film, si sono accomodati tutti quanti. Tu quanta fai l'acqua? Due euro, due euro. Ah, due euro no? Allora l'acqua qui costa due euro, sono pure economici. Ci sarebbe anche il problema che le bottigliette sono tutte quante congelate e poi piano piano durante la giornata si scongelano e questo, credo di aver letto da qualche parte, per le acque minerali è un problema. Ma forse perché le vendono meno del bar, che le andiamo a chiedere? Questa è una situazione, devo dire, abbastanza drammatica, sia per noi del bar oppure comunque per il giornalai o per chi ha un'attività e loro poi non pagano tassi, non pagano nulla, quindi ecco qui che ci troviamo così. Noi cerchiamo di mandarli via anche con i vigili, li chiamiamo, ma loro, niente, fanno il giro del palazzo e poi tornano. Abbiamo avvisato la polizia municipale del primo gruppo e magicamente, non ci crederete, non c'è più un ambulante. Questi hanno i radar, guardate, ecco le pattuglie, altre due auto dall'altra parte, ecco quattro uomini del primo gruppo e magicamente qui alla pensilina non c'è più nessuno. Chiaramente si avvisano queste persone, tra di loro e come potete vedere spariti. Chiaramente la polizia municipale conosce bene questo problema e sa che potrebbero aver nascosto le mercanzie qui all'interno dei motorini, sotto le coperte queste invernali. Ecco continuano, eccoli, eccoli, l'avevo detto, la polizia municipale ci aveva avvisato che avevano lasciato qualcosa, questa è acqua minerale, perfetto. Ecco come fanno, prendono, nascondono tra i motorini e tra le macchine alcune mercanzie e qui la cosa è molto nota ai vigili del primo gruppo e di altri gruppi importanti come il GSSU che ogni giorno operano in questo quadrante della stazione Termini e su tutta Roma. Nonostante la polizia di Roma Capitale è con due mila uomini sotto l'organico, quello che si riesce a fare per la nostra città è qualcosa di veramente importante.